ciao ragazzi buongiorno a tutti eccoci qua anche oggi ci troviamo presso il nostro vivaio l'orto fruttifero il nostro vivaio amico vivaio di fiducia perché siamo in compagnia di marco martinelli che è un divulgatore scientifico dell'università sant'anna di pisa oggi con lui vogliamo affrontare degli argomenti un po particolari quindi vogliamo uscire da quello che è il classico vivaismo il classico orto articultura normale come la intendiamo oggi e vogliamo vedere dato che abbiamo il piacere di parlare con una persona che si occupa appunto anche di ricerca diciamo più che altro divulgazione sapere cosa sarà il futuro quali sono quali ricerche ci sono in atto cosa state combinando e cosa verremo a sapere tra un po di tempo e cosa saranno i nostri orti tra qualche anno dieci anni vent'anni dove andremo a queste domande sono molto complesse ma proverò un po a rispondere magari facciamo un bel viaggio attraverso questa e queste serie di domande che mi fai sicuramente ci sono tante possibilità c'è quello dell'implementare la produttività delle piante attraverso per esempio le simbiosi quindi le micorrize e quindi fare prodotti che sono hanno un valore aggiunto sia dal punto di vista della produzione ma anche dal punto di vista della qualità quindi implementare la quantità di nutrienti che stanno dentro le piante poi ci sono anche le nuove varietà che vanno scoperte come per esempio la cannabis stativa alla canna industriale e poi ci sono anche varietà nuove come il pomodoro nero che andiamo a analizzare magari scopriamo insieme un po di che si tratta e appunto di come sfruttare le proprietà nutraceutiche di certi composti chimici che le piante ci mettono a disposizione che fanno molto bene certo per esempio queste nuove varietà potrebbero un domani magari sostituirne altre che magari sono o più sconvenienti o comunque che poi alla fine quello che è successo da sempre nel mondo dell'agricoltura da quando l'uomo ha iniziato a stanziarsi e a coltivare quindi le varietà più convenienti vengono portate avanti e migliorate le varietà meno vengono abbandonate quindi nel caso del pomodoro nero per esempio può avere anche uno scopo vantaggioso per quanto riguarda la nutrizione quindi evitando magari di andare ad assimilare dei nutrienti in maniera sintetica possiamo impiegare degli smart food vengono vengono definiti giusto appunto per evitare mangiando quindi evitare prodotti chimici prodotti di derivazione chimica assimilarli con un'alimentazione corretta e equilibrata assolutamente sì allora cosa andiamo a vedere adesso beh cominciamo dalla canapa perfetto andiamo allora bene quasi 15 troviamo nella zona dove la canapa viene lasciata in alveolo a crescere quindi qua abbiamo delle piantine di canapa spiegaci un po questa canapa poi dove andrà allora qui all'orto fruttifero abbiamo fatto una piccola società diciamo nuova che si chiama canapisti che è uno spin off della scuola superiore sant'ana significa che è un'azienda che è vicina all'università parte da una costola dell'università della scuola superiore sant'ana e facciamo queste piantine le distribuiamo in vaso questa è canapa industriale perché è importante la canapa industriale allora la cannabis in generale una pianta molto molto utile purtroppo molto anche temuta anche spiegabilmente per miopia fondamentalmente perché la canapa industriale nello specifico differisce dalla cannabis che troviamo dietro la biblioteca e la vendere erba a vendi l'era a vendere erba io a vendere canna se la cambi di le canna a scopo ludico utilizzato scopo ludico differisce da quella industriale dal fatto che contiene questa industriale poco thc il thc è il tetra idro cannabinolo ed è un principio attivo stupefacente ma nella canapa industriale poco poco concentrato per cui non ha nessun pericolo non può dare nessun pericolo però nel frattempo ha delle proprietà fantastiche perché con la cannabis industriale si possono fare vestiti dalla fibra si può fare bioedilizia perché attraverso la fibra si può fare la calce canapa per esempio che ha delle proprietà per esempio di isolamento termico ottime poi si possono fare chiaramente vestiti si può fare carta ma si possono estrarre principi attivi anche dalla canapa industriale perché la canapa industriale ha poco thc ma anche un fratello chimico il thc che si chiama cbd cannabidiolo che è un ansiolitico pensate che viene utilizzato anche per il trattamento dell'epilessia farmacoresistente quindi il cbd ha delle proprietà ansiolitiche immunomodulanti ottime quindi dalla canapa industriale si possono fare fibra farmaci si possono fare anche per esempio degli insetticidi attraverso gli oli essenziali ma si può fare anche bioenergia perché la fibra può essere fermentata in reattori con specifici microrganismi che producono per esempio il bioidrogeno benissimo quindi tra questa pianta e quella utilizzata a scopo ludico non c'è diciamo che non non c'è la possibilità di confondere l'una dall'altra è proprio una questione di principio attivo che manca in questa quindi esatto si possono confondere perché delle volte sono un po simili soprattutto quando sono piccole perché la cannabis e cannabis è solo che esistono vari chemiotipi si chiamano ossia le varietà si possono distinguere in base a quelle che producono molto thc che sono quelle ludiche oppure terapeutiche o quelle che ne producono poco che sono quelle industriali però producono cbd che può essere comunque utilizzato a scopo terapeutico quindi se volessimo trovare questi prodotti quindi fibra e quant'altro provenienti da queste coltivazioni dove le possiamo trovare ma allora noi non produciamo non siamo un'azienda che trasforma questi prodotti noi semplicemente forniamo le piante però ci sono molte realtà aziendali in italia che provano a farsi spazio per la produzione di fibra i principi attivi eccetera anche se purtroppo sebbene ci sia una legge che la 212 del 2016 che regolamenta questo settore che consente la coltivazione a tutti i cittadini di canapa industriale quindi tutti i cittadini possono coltivarla anche privati c'è un problema di destinazioni d'uso fondamentalmente vari settori e sottoleggi poi mancano perché tipo la canapa industriale può essere utilizzata a scopo alimentare si può fare il seme si può fare la farina si può fare l'olio però non si può utilizzare il fiore a livello legale in italia siamo molto indietro però sono sicuro che nel futuro normando il settore il business partirà e sarà più solido quindi è tutto un work in progress attendiamo e siamo in work in progress nel frattempo che attendiamo il raddrezzamento di queste leggi e dell'apertura mentale dell'italia cosa ci fai vedere adesso passiamo al pomodoro nero mitico pomodoro nero che voglio provare assolutamente nel mio orto andiamo eccoci qua quindi che piantina abbiamo in mano adesso questo è un pomodoro ciliegino sun black sun black è un marchio registrato che indica il pomodoro nero il pomodoro nero che è stato creato tra l'altro nel mio lavoratorio al plant lab della scuola superiore sant'anna insieme all'università della tuscia insieme all'università di pisa e grazie anche all'orto fruttifero che poi ha acquistato questo diciamo marchio e bevetto e può commercializzarlo in tutta europa che proprietà al pomodoro nero perché è un'idea interessante perché vedo che nero fuori ma rosso dentro esatto questo è proprio la peculiarità praticamente sono stati presi dei genitori molto molto vecchi del pomodoro si chiamano varietà diciamo quasi ancestrali che avevano tanti puntini neri sulla buccia questi puntini neri si chiamano antociani sono dei pigmenti che colorano in viola il mirtillo per esempio no e fanno molto bene questi parentali di questi genitori sono stati incrociati tra loro è stato creato un pomodoro che era un po bruttino piccolino che aveva però tutta la buccia nera quando prende il sole e questo è stato poi reincrociato tante volte con varietà commerciali come quella del pomodoro ciliegino rosso standard fino a creare un pomodoro quindi per selezione artificiale assolutamente standard non si tratta di pomodori ogm anche se io non ho niente contro gli ogm però comunque questi non lo sono ecco sostanzialmente è stato creato un pomodoro con la buccia nera fuori e dentro rosso perché è nera perché contiene questi antociani di cui vi dicevo prima che si producono quando il pomodoro viene irraggiato dalla radiazione ultravioletta del sole quindi un pomodoro che fa bene come un mirtillo esatto diciamo che uno associa i benefici del pomodoro che già contiene il licopene che è un carotenoide antiossidante che fa molto bene ha la presenza anche di antociani che sono tipici di altre tipologie di frutti ma che in questo caso si trovano nel pomodoro perché una bella insalata col pomodoro nero ciliegino sicuramente un grande valore dal punto di vista nutrizionale quindi questo pomodoro comunque va coltivato al sole deve prendere tanto sole per diventare nero è come se si dovesse abbronzare mettiamola così se lo teniamo all'ombro in mezz'ombro oppure coperto dalle foglie infatti qua c'è proprio scritto sulla disposizione tecnica di togliere le foglie superiori proprio per fargli prendere il sole diretto altrimenti resta rosso e quindi tutti questi gli antociani non si sviluppano non si creano bravissimo è proprio così e anche questo rientra sicuramente tra le varietà che anche nel futuro dobbiamo sperimentare varietà che partono da varietà antiche ma che si trasformano in nuove varietà ad alto contenuto nutraceutico diciamo ad alto valore tecnologico fantastico allora fai una cosa guarda dammela a me questo ecco che me la porto nell'orto la proviamo bene quindi eccoci qua nella zona di vita micro green spiegaci un po questi micro green in cosa consistono qua sono io vedo delle piccole piante dove però andiamo a mangiare la pianta e non il frutto giusto assolutamente sì allora i micro green fondamentalmente in inglese ma si possono definire in italiano micro ortaggi sono plantoline di 7 massimo 14 giorni a dir tanto che praticamente vengono tagliate e mangiate fresche tipicamente cosa sono sono varietà ortive di cui tipicamente mangiamo il frutto pensiamo alla carota per esempio no che di cui si va a mangiare appunto la parte sotterranea esistono micro green invece che di cui si mangiano di carota solo la parte superiore ossia la parte diciamo verde che contiene tantissime proprietà e sostanze nutritive allora quelli che abbiamo in mano sono per esempio la neto oppure lo spinacio o ancora il il peperone d'aceto se non sbaglio una cosa del genere si è questo quasi allora le varietà sono veramente tante che abbiamo e uno si potrebbe chiedere ma perché dovrei mangiare dovrei mangiarmi la neto così piccolo ora questi sono ancora molto piccoli di solito tipicamente sono un pochino più a cespuglietto quindi quali circa quanto manca questi sono ancora un po piccole serviranno altri dieci giorni forse dieci no magari sette però sì ecco tutti i sette giorni quindi saranno altri tre quattro centimetri le consumeremo quando arrivano a un massimo di dieci centimetri d'altezza tra la semenza per delle piante da finiranno da frutto normali e per il micro green nessuna nessuna assolutamente nessuna il seme è lo stesso diciamo che se noi volessimo fare una piantina sola di aneto metteremo un semino di aneto in un vaso lo faremo crescere questi però sono tanti tipicamente ce ne vanno magari 30 40 a seconda della germinabilità anche del seme stesso e vengono appunto consumati freschi dice perché dovrei farlo una cosa del genere perché la pianta a questo stadio di sviluppo ha una diciamo un contenuto di sostanze benefiche nutraceutiche molto molto elevato allora chiaramente non sono delle terapie questi non vi guariranno da nessuna malattia purtroppo ci piacerebbe che fosse così però l'alimentazione funziona a lungo termine per cui avere un'alimentazione corretta nella quale inseriamo anche questa tipologia di prodotti a lungo termine a lungo raggio diciamo premia premia perché questi prodotti hanno questi micro green hanno tanti principi nutritivi come vitamine sali minerali sostanze anche tipiche che la pianta magari ha proprio in questo stadio di sviluppo quindi prima mi hai accennato del super bio questa nuova tecnologia che state sviluppando ma in cosa consiste fondamentalmente super bio è un modo molto simpatico per chiamare una cosa che è già diffusa ma che comunque molto interessante sono le piante micorrizzate sostanzialmente si tratta di mettere nel terreno delle diciamo degli ovuli che contengono all'interno delle micorrize diciamo il le micorrize sono microrganismi che vanno a supportare la pianta fornendo alla pianta per esempio minerali sostanze minerali azoto oppure fosforo appunto i fosfati diciamo che vanno a supportare la pianta e la supportano sia dal punto di vista della crescita quindi la pianta cresce meglio ma anche dal punto di vista della resistenza all'attacco di patogeni per esempio e anche dal punto di vista nutraceutico perché le piante micorrizzate tipicamente contengono più vitamine più sali minerali più antiossidanti che poi ci ritroviamo sulla tavola quindi fondamentalmente ma diciamo che io già le micorrize sono abbastanza legate infatti ne ho già parlato diverse volte su vari video anche su instagram eccetera il super bio fondamentalmente consiste nel fornire delle piantine che sono già micorrizzate dal bivaio quindi noi qui in fase di piantumazione in fase di coltivazione non dobbiamo più aggiungere niente ma la pianta è già tutta micorrizzata così com'è giusto è esatto è proprio questo il concetto tra l'altro si tratta di micorrize che qui all'orto fruttifero sono state sviluppate con l'università di pisa la professoressa giovannetti che è stata anche la mia professoressa tra l'altro ed è uno studio che portiamo avanti anche però per esempio all'università della scuola superiore santa anna sono molto interessanti le opportunità che le micorrize e microrganismi possono creare con le piante perché tutto quello che ci circonda simbiosi esatto è una simbiosi tutti noi siamo in simbiosi perché simbiosi dal greco su un bios vuol dire vivere insieme per cui anche io e te siamo in simbiosi in questo momento perché viviamo a fianco vicini senza recarci danno recarci danno tutto ci aiutiamo nelle piante negli ecosistemi importantissimo e questa alleanza fa sì che le specie proseguano quindi noi dobbiamo capire come funziona sempre di più e sfruttarle nel futuro questo ci aiuterà anche a trattenere i danni del cambiamento climatico dell'impoverimento dei terreni e quindi anche del e dell'aumentare anche della popolazione quindi da quanto capito tutto quello la ricerca si sta negli ultimi anni concentrando sul fare meno avere meno ma con un'esplosione più elevata di conseguenza dobbiamo cercare di fare di meno ottenendo di più prima nel micro green quindi mangiamo di meno ottenendo di più con la micorrize abbiamo una pianta che deve rendere di più esprimersi meglio diciamo che la ricerca sta andando in questo verso sta andando è questo il futuro appunto come hai detto te per l'aumento delle persone sulla terra dobbiamo cercare con gli spazi che abbiamo prima mangiavamo in metà delle persone ora siamo il doppio lo spazio è sempre quello dobbiamo mangiare tutti vivere tutti e possibilmente senza distruggere completamente il nostro proprio il nostro pianeta assolutamente qui entreranno poi in gioco sicuramente del futuro quindi come dicevi tu la qualità quindi aumentare la qualità del prodotto e anche sicuramente il vertical farming che è una cosa molto interessante era qui all'ortofruttifero ancora non lo facciamo ma sicuramente in futuro potrebbe essere interessante capire come comportarsi perché riducendosi gli spazi coltivabili dobbiamo andare in altezza quindi lo sviluppo in verticale che già è impiegato in diverse in diverse realtà vedo anche mi accennavi prima sul sullo spazio anche sott'acqua hanno provato a fare questi esperimenti proprio a genova si sia vicino se non ricordo male si hanno fatto esperimenti anche di coltivazione in mare in specifiche specie di palle delle ball di dove si venivano cresciute le piante sono tutti esperimenti la scienza deve fare esperimenti di questo tipo anche un po estremi talvolta anche un po insomma che fanno sorridere ma è proprio attraverso gli errori che si fanno nella scienza che possiamo capire dove direzionarci sbagliare è importantissimo quindi grazie marco per questo tempo che ci hai dedicato per le informazioni per queste curiosità che comunque fa anche piacere sapere dove stiamo andando la ricerca ciò che noi non possiamo vedere dove sta andando e quali sono i confini che stiamo cercando di valicare per questo video è tutto se avete delle domande scrivetemi nei commenti ci vediamo nel prossimo video un saluto dal contadino nick da marco martinelli e dall'orto fruttifero